è poco aperto le novità questo damiano però dai su guarda che non t'ho ancora perdonato quello che hai detto prima buongiorno parlo di one football siamo ancora qui con un'altra tier list con un altro pagellone maglie e visto che siamo in settimane pausa internazionale abbiamo deciso di fare le maglie delle nazionali soprattutto quelle di euro 2020 ma ho fatto una piccola sorpresa che penso apprezzerai ma ma tanto nessuna maglia sarà bella come quella d'italia è fantastico quella avevamo già già avevamo dato il nostro shut up and take my money e quindi shut up and take my money è il livello superiore il miglior livello della nostra tier list e davide ci presenterà gli altri quattro gli altri quattro a secondo posto abbiamo il mezzo capolavoro poi abbiamo senza e fabbia senza lode sempre di mezzo la nostra preferita manco morto e la cafonata pazzesca siamo pronti le istruzioni le sapete ne manca una ovvero iscrivetevi al nostro canale ci serve il vostro supporto ragazzi ci impegniamo per portarvi io mi sono fatto 10 km in bicicletta per venire a girare questa tier list ci sta dato dentro e come allora partiamo dalle avversarie dell'italia nel girone perché mi sembra giusto ok quindi si parte dal galles c'è questo tocco molto anni 70 è vero io vedo sta maglietta è vero e sento Rod Stewart che poi ha un po' di Spagna e un po' di galles mi ricordo molto la Spagna con questa cosa del giallo perché c'è quella cosa questo rosso e giallo molto spagnolo però sta manichetta a me piace è carina è particolare la rende un po' unica nella sua semplicità e è una cosa che io apprezzo molto io resto in mezzo senza infamia e senza lode giusto perché lo sai giallo e rosso vicini non mi piacciono non è c'è poco da fare io volevo dare mezzo capolavoro ma giusto per dar contro a questo infedele shut up and take my money giusto per mettermi in polemica adesso che continui a dire questa cosa dei colori giallo e rossi che è una bestemmia non mi vanno giù passiamo alla Svizzera sì maglia Puma righine interrotte però soprattutto casino incredibile sul petto sul petto perché c'è lo stema dello sponsor tecnico in mezzo lo stema della federazione a destra e la bandiera svizzera a sinistra non è meglio mettere Puma bandiera svizzera stema della federazione probabilmente sì bilanciava di più è vero con i due loghi grossi che impattano di più sui lati a me mette in confusione fra l'altro a me piaceva molto la maglia d'allenamento diciamo quando è cominciato a uscire si pensava che sarebbe stata la maglia della nazionale ed è molto carina secondo me se avessero fatto una cosa del genere non mi sarebbe dispiaciuta questa è più bella la maglia d'allenamento caruccia ma mi dà sui nervi questa confusione con i loghi gli stemmi le bandiere la sopra quindi quindi un senza infamia sì dai senza infamia giusto perché da buon comasco gli svizzeri ce li ho lì meglio tenersi lavoravo in svizzera quindi passiamo alla Turchia a proposito di stemmi messi in posti strani sì è vero però almeno qua sono centrati ognuno al suo posto lo so però mi dà ancora più fastidio perché sembra quasi che devi metterti sopra alla bandiera insomma però alla fine anche con la Nigeria te lo ricordi mi sembra un po' una prepotenza da parte dello sponsor tecnico però mi sembra che sia tagliata bene non mi piace è carina però devo dire minimale non fa male non mi sconquifera no mettiamola così io senza infamia e senza lode questa semplicità mi piace assai in mezzo capolavoro vado un po' più alto sì guarda che plain pulita sai cosa in queste maglie gli stemmi fanno e quindi sì è vero c'è già la mezzaluna della Turchia la bandiera però lo devo vedere uno stemma qua se no non mi sa di maglia da calcio mi sa della magliettina tarotka che ti metti per giocare in strada però ci dobbiamo abituare secondo me perché abbiamo visto quest'anno stavano tutti verso il centro io sono un vecchio Barbogio vecchia scuola è poco aperto le novità questo Damiano però dai su guarda che non ti ho ancora perdonato quello che hai detto prima e passiamo al Belgio e ti dico subito che siccome sono poco aperto alle novità a me piace da morire questa maglia anche a me e mi piace anche il nuovo logo della federazione belga quello prima non mi piaceva per nulla molto anni 90 questo è bello molto anni 90 molto belga no molto ciclismo parigi rubè di Merckx queste cose qua mi piace è bello i pennelloni qua ci stanno esatto mi piace come è stato interpretato il pennellone ecco e quindi questa intanto va nella categoria pennelloni che è più o meno tra vero salume di Calabria no è molto bello mi piace è simmetrica che belgio ti trovi subito al museo dei fumetti di Bruxelles ma sai che qua non so te ma qua secondo me bisogna sparare alto dici ce n'ha già abbastanza ce n'ha già abbastanza però no però è Tamarra con giudizio e secondo me è un ottimo esempio riuscitissimo di Tamarra con giudizio detta con tono da critico d'arte ma si shut up and take my money my money vai la Francia mi sta venendo su un qualcosina ma per la Francia o per la maglietta ma per tutte e due ma io devo dire che fa il paio con la maglia del Borussia Dortmund nella categoria pigiamino di seta freschetto per l'estate ma secondo voi è in cotone esatto se è in cotoncino freschetto adesso stiamo andando verso l'inverno ho già fatto il cambio armadi posto quindi qua ci va il pigiamone a maniche lunghe quindi no diciamo manco morto perché no abbastanza manco morto non mi dispiace anche questa è molto francese tra l'altro riprende anche la vecchia maglia della Francia penso di 84 che era molto carina si vede che c'è un accenno storico c'è questo accenno però ci piace il plane ovvero l'abbiamo detto parecchie volte la semplicità e tutto però forse si queste righe sono troppo uniformi se le avessero distanziate un po' diverse no tutte queste line blu chiaro blu scuro distanziate in modo diverso in modo da creare un po' di movimento secondo me sarebbe stata una bomba ve lo dico così proprio così manco molto perché mi spegno un po' l'entusiasmo ecco Germania allora dobbiamo stare attenti a quello che diciamo se no ci sbattono a casa questa qua abbiamo avuto la fortuna di vederla anche dal vivo l'abbiamo toccata perché c'è un studio sì ce l'avevamo e originalissima e devo dire che di quelle degli ultimi anni è una delle mie preferite della Germania è molto bella poi sai è quel minimale quella come dire quell'essenzialità teutonica ecco alla faccia molto anche questa è molto tedesca però c'è sta manica è un po' tipo è grossa il fatto è quello è grossa che risalta poi il muscolo capito ci sta ci sta che stiamo tra l'altro diciamo sul manichino ti ricordi no dai io dico dico mezzo capolavoro perché è proprio bella secondo me la Germania c'è sta cosa sempre con molta essenzialità con questo stile che ha che ripete però raramente sbaglia una maglia la Germania soprattutto nel panorama delle maglie delle nazionali che tante volte sono delle cose molto noiose anche per un vecchio barbogio come me la Germania riesce sempre a risaltare perché può risultare noiosa dici che è bianca con le strisce però cavolo è fatta bene le strisce sono pennellose sì sono pennellose però sai cosa non si notano perché sono fini esatto per dare un giudizio prova a mettermi nei panni di un tedesco io se fossi un tedesco me la comprerei probabilmente questa maglia quindi ci adapta in take my money take my money sì allora veniamo a l'Olanda che secondo me prende la maglia la mette in una in una gabbia di refrigerazione e poi gli tira una marmellata se va bene tiriamo una marmellata a tre maglie gli tira una martellata per fare tutte queste cose fuma è vero questa è sempre quelle ispirazioni sarebbe da capire se queste architettoniche sì sarebbe da capire se sono in rilievo esatto sono in rilievo ricammino sono in rilievo sì mi sembra di cammino poi viene anche qua il puntinato il puntinato per far traspirare il sudore eh insomma però no devo dire che non mi piace per quanto a me piaccia molto il colore arancione accoppiato anche col nero molto street questo qua quando vai allo stadio e te la metti sei un bullo cioè veramente boh io io dico cafonata non so non mi piace proprio mi dà la labirentita però il resto sono senza infamia mi dà questa cosa di tecnologia avanzata avanzata in frigo avanzata in frigo visto che partiamo dalla cellula dalla cellula frigorifera la Croazia con i suoi quadratoni ormai allora io devo dire una cosa la scacchiera croata a me apre il cuore probabilmente è l'unica scacchiera che si può vedere mi rimanda indietro al mondiale del 98 quindi è uno dei miei ricordi pensate che ricordi che ha Damiano è rinato nel 98 ma ce l'hai la patente ero dato ma non me lo ricordo io ero ero già un essere senziente però boh secondo me sto quadrato un po' troppo grande c'è da dire che dietro poi c'è c'è questo vuoto questi triangoletti no dietro mi disturba guarda lo apprezzo più qui questo vuoto che per esempio nei quadratoni dell'Inter della seconda o terza maglia seconda maglia vero di solito a me non disturba hanno lasciato quello spazio per mettere nome e numero però non mi piace quella maglietta lì qua devo dire a me qua non piace è carina perché si creano queste cose non c'è più soltanto il quadrato capito si trasforma in triangoletto e forme romboidali secondo me sono proprio belle le maniche dietro hai visto guarda qua guarda come entrano bene nella schiena non mi convince devo dire io avrei forse avrei fatto dei quadrettini un po' più piccoli e poi il collo così no non lo so ci sono delle cose che non mi non mi piacciono anche se sono un attunzionato del quadrettone c'è anche un nome che ora non mi ricordo più la ciaovnitz a botte di cultura mi spara domiano oggi ciaovnitz che vuol dire scacchiera scacchiera però sì secondo me non è una delle ciaovnitz più 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 riuscite mettiamola così a me piace parecchio e quindi devo dire un un manco morto ecco mi spiace manco morto proprio perché mi aspetto tanto dalla scacchiera croata io probabilmente giusto per il dietro li do un mezzo capolavoro passiamo alla spagna eccola ispirazione architettonico artistica come al solito infissi ho letto che è un motivo pixelato ispirato alla bandiera spagnola se lo dite voi io non lo vedo pure l'ungheria che ha detto ah ci abbiamo ispirato al danubio e ci hanno le strisce un po' un divaghe no non è non è brutta no elegante elegante però non mi dice di granché devo dire è proprio da spagnolo senza infamia si senza infamia poi sai ci metti due belle manichette un po' originali e c'è subito la maglia del galles ah si perfetto è vero adidas adidas con il giallo le tre linee gialle di qua un attimo indietro c'è anche lo stesso si 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 è un po' più scuro è una naturalità di giallo un po' e poi ci abbiamo la sorpresa che ti avevo promesso andiamo fuori dall'Europa perché volevo fare 10 dell'euro però settimana scorsa il Ghana il Ghana ha presentato prima e seconda maglia ancora una all right e wow ma vedremo una coppa d'africa esaltante sono bellina a me piace da morire la seconda maglia però anche la prima con questo bianco qualche tocco di colore le nazionali del caf quindi la confederazione africana calcio secondo me hanno sta cosa sai il Ghana la Nigeria osano sempre tanto sulle maglie nazionali e ci sta è bello hanno uno stile unico nel loro genere no sono belle sono belle per fare un parallelismo un po' come come ha fatto l'Italia quest'anno prendendo tutti questi motivetti nascimentali e poi sta stella nera qua in mezzo che sono le black stars la nazionale ganese e no no c'è il suo perché ci aspettiamo secondo me anche altre belle cose da altre nazionali africane quindi chiaramente saremo sempre qui a commentarle ma quindi tu che hai fatto le regole cosa votiamo solo la prima o la prima votiamo tutte e due ma insieme 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 ok allora probabilmente mezzo capolavoro anche mi piace più quella di Nigeria anche io sì sono d'accordo con te però mi piace molto 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 originale molto particolare ci piace bene e con questa sorpresina siamo arrivati siamo arrivati alla fine anche di questa tier list come al solito vi ricordiamo mettete like a questo video se vi è piaciuto iscrivete al canale fateci sapere nei commenti cosa ne pensate delle maglie quali secondo voi sono da shut up and take my money quali sono delle cafonate pazzesche e tutto quello che c'è nel mezzo e noi lo aspettiamo al prossimo video e alla prossima tier list ciao ciao ciao